Ragazzi guardate tutto il video fino alla fine 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 e arriviamo a 30 like 20 ma meno 20 perché questa roba mi ha distrutto cioè sono tutto stonfo quindi dai 20 like ce la potete fare io vi lascio al video che è veramente molto bello provate anche voi a non ridere se ci riuscite è da maggio che dobbiamo fare questa cosa è da maggio che tu dovresti fare un video al giorno si beh più o meno è da aprile che mi dovrei avere un computer e non ce l'ho ancora allora ci siamo nella prova a non ridere con l'acqua questo è un litro di acqua non di vodka ricordatevi si è un litro io sono sto perdendo quest'anno quale è 4 a 3 lo cano no la 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 Sì non è che scuro GONJO! no no she's a beast i call her mama and i'm killing her grandma hey hey you're so tired grandma you don't play basketball ball is life iscriviti Oh, where'd he go? I'm done. I'm requesting Uber right now. Would you like some gum? No. Put your hands up. And they stay there. And they stay there. I can't believe it. I'm over here. You gotta be kidding me. What's up, Busser? Watch out, Busser will kill it. It's cool, you know, buddy. Baby squirrel. Baby squirrel. Baby squirrel. Baby squirrel. Baby. Baby. Look at them. Look at them. Put it on. Tell me what you hear. A dog. A pew. A cat. A mother fucking. Sì no 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 che schifo canela canela perchè hai riso perchè c'era un sottoccano ok mettiamo un attimo il video in pausa e ripartiamo dopo che devo scoccare una cosa solo no 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 hai tanto perdi Sì voglio 30 like su questo video è stato un po' not again sure why not what what it is it is him ah Sì Sì So is it any wonder people are afraid Of equality Dai Ha fatto l'arcobaletto Ho perso si vede che ho perso È la bocca più grande Quindi sono svantaggiato Va bene allora il video è finito male Scherzo epico finito male E si insomma è un po' un casino Qua però si guardatelo laggiù Hai fatto gol Bene noi ci vediamo Ci vediamo nel prossimo video Saluto anche te Ciao ragazzi